Siamo qui, eh? Ben arrivato alla descrizione del veicolo. Vai! V8 prima di tutto. 6.006, 6 metri di lunghezza, 78... Ma bestia! Bestia, sì, paletti di cavalli. Ok, benvenuto. Grazie. Prego. Allora, ragazzi. Siamo ancora qui, eh? Anzi, da lì a qui. Vai, andiamo a fare tutto su. Vai lei! V8.006, 6 metri di cavallo. Un po' di là! Un po'. Ma... Un po' di là. Un po' di là. Un po' di là. meeting, ragazzi, non ci fermiamo, si continua Saluto all'American Car Club, saluti all'American Car Club of Rome American Car Club of Rome, siamo i meglio, dai ragazzo Siamo qui, proprio qui Ragazzi, venite un po' a prendere qua Una scevrolet, sicuramente antiguera, notate che schicca Prego, siamo proprio qui Allora Spero il guest, due kit, una parla americano, una parla italiano Ci manca la spagnola ma non la troviamo, ok? Ci siamo, California Night, American Car Club of Rome Siamo strezzati, siamo stanchi Andiamo da Grazie a tutti Ma io dico no, ma è possibile che uno come me do prende la scala per stare su sto coso? Ma se può andare avanti così, guardate, notate, notate, non va bene questa cosa, non va bene questa cosa, dai cazzo Ciao Ciao Siamo qui! Siamo qui! Sì! Ocua! Questo è normale il claxon Eh, questo è il claxon Eh, questo è il claxon Sì! Sigla internazionale KITT Buongiorno! Io sono la voce del Night 2000 KITT per gli amici KITT! Siamo qui con l'American Car Club of Rome E io stasera vorrei tornare a casa No? Vorremmo tutti tornare a casa stasera Però vedo che effettivamente Stamattina mi sono dimenticato di fare benzina Non vi appoggiate troppo ragazzi Che sono se stac... Eh, qua qualcuno dice che io per casa non ci arrivo Ma... Secondo te... Quanta benzina devo mettere? 5 galloni di questo combustibile 5 galloni di questo combustibile dovrebbero essere più che sufficienti Attenzione! KITT! Ne apri il cavolo Giulio! Eh? KITT! Attiviamo le funzioni! Oddio! 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 Apri il scofono e mettiamo le tene... Questa è la voce del computer che governa questa macchina Sigla internazionale KITT Night Industries 2000 Kit se prendisce Kit sono stanco! Il mio microsensore beta avverte uno strano tono nella tua luce Kit! Attiva il radar! Posso cercare per un raggio di 20 miglia da qui Sei sotto il controllo di un raggio elettronico Un sistema d'allarme inoffensivo ma efficace Sto rilevando un'alta concentrazione di cosforescenza alla tua sinistra Ma la mia sinistra chi è? Sei te? E ho un miglio da qui Ah no è un miglio da qui Mi dispiace ma è sulla collina non si può raggiungerti qui Ma sei macciampino Kit quale collina? Sì è... Vabbè va Questa è la voce del computer che governa questa macchina Sigla internazionale KITT Night Industries 2000 Kit se prendisce Eh così è tutta un'altra cosa no? Sì Saluta saluta Stefano saluta Saluta Sì 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 Guarda se ce lo so Come sto Kit? Oddio Questo mi sfido